È possibile abbracciare uno stile di vita più sano che porti a una trasformazione significativa e duratura del proprio benessere? Sì, certo, e davvero dipende solo da noi. Io sono Patrizia Landini, giornalista e divulgatrice di Salute Benessere per AltroStile.net ed ecco tre consigli per migliorare da subito la tua salute. 1. Bevi un bicchiere d'acqua al mattino per avere più energia e lucidità durante la giornata. 2. Riduci le bevande zuccherate e i succhi di frutta preconfezionati. Sembrano deliziose, zuccherate e saporite e proprio per questo il cervello esulta, ma possono portare a problemi di salute come obesità, diabete e malattie cardiache. Opta per alternative più sane come l'acqua naturale o i succhi di frutta fatti in casa, hanno meno zucchero e più fibre e nutrienti. 3. Scegli i cereali integrali al posto di quelli raffinati. I cereali integrali sono ricche di fibre, vitamine e minerali e possono contribuire a mantenere un peso sano, a ridurre il rischio di malattie cardiache e a migliorare la salute digestiva. Utilizzare cereali integrali come riso integrale, avena e farro può portare a una dieta più equilibrata e nutriente. Salva il reel allora e condividilo affinché tutti adottino uno stile di vita sano. In altrostile.net troverai ben 15 consigli per migliorare da subito il tuo benessere.